In un contesto fortemente drammatico come l'attuale, segnato dalla crisi economica generata dalla pandemia, la formazione non è più solo uno strumento aggiuntivo a disposizione delle aziende, ma è diventata la soluzione indispensabile per affrontare la crisi. Le nostre imprese faticano a resistere, per questo con Fartigianato Ancona, Pesaro Urbino, insieme alla Camera di Commercio delle Marche e Dima, Dipartimento di Management Univ-PM, presentano oggi alla conferenza stampa qui ad Ancona, presso la sede di Fartigianato, la sedicesima edizione della Scuola per Imprenditori, un'iniziativa impensata non a caso per dotare le imprese degli strumenti indispensabili per resistere alla mutata situazione economica derivante dalla crisi. Rossini TV è qui per voi, seguiremo per voi la conferenza stampa a fra poco. Marco Pierpaoli, il segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro. Segretario, qual è la realtà che stiamo vivendo in questo periodo? Una realtà molto complessa. Proprio ieri l'Istat ha evidenziato come il 45% delle nostre imprese è a rischio strutturale ed evidenzia quello che da noi come Confartigianato da un anno ormai evidenziamo come bisogna rimettere al centro il lavoro e stiamo lavorando ogni giorno per far sì che le nostre imprese possano lavorare. A volte diciamo che a rischio l'articolo 4 della Costituzione, il diritto del lavoro. Oggi gli imprenditori chiedono questo, di lavorare in sicurezza. Crediamo che le imprese non siano produttrici di virus, quindi non possano alimentare il virus e anzi lavorando in sicurezza garantiscono i propri clienti. Quindi il tema centrale è questo, nella speranza di ripartire nel più breve tempo possibile. Certo, seguendo poi anche tutte quelle che sono le regole, siamo stati testimoni non più tardi di un paio di giorni fa di manifestazioni che forse interpretate in quel modo non hanno fatto bene anche alla categoria degli imprenditori che comunque sono stati visti in un certo modo, mentre in realtà rispettando le regole siamo dell'idea che si possa davvero raggiungere il risultato. Allora, gli imprenditori in questo contesto hanno ragione e noi rappresentiamo le istanze degli imprenditori perché se mi chiedi di stare chiuso mi devi sostenere rispetto ai costi fissi e questa è una situazione che ormai non è più accettabile. Quindi il tema dei vaccini doveva partire prima, stiamo pagando purtroppo dinamiche della pandemia che ovviamente dobbiamo gestire, ma gli imprenditori hanno un grande senso di responsabilità e per un anno si sono prodigati nel rispetto corretto delle regole come noi associazioni di categoria diciamo, però agli imprenditori dobbiamo dare gli strumenti e i sostegni rispetto al fatto che a quegli imprenditori chiediamo di stare chiusi e questo è il primo tema. Per quello che invece riguarda la nostra iniziativa crediamo che auspicando una ripartenza come già si sta evidenziando tra fine aprile e maggio per tutte le categorie, perché ricordiamoci alcune categorie ancora oggi stanno lavorando, questo è uno strumento indispensabile per resistere a un contesto economico fortemente mutato. Certo e oltretutto rinforza l'importanza della formazione a 360 gradi e quindi dell'imparare, dell'apprendere e dopo riportare nell'esperienza proprio lavorativa. Però il tema della formazione una volta magari era interpretata come una possibilità elitaria, un arricchimento. Qui oggi dobbiamo dotarci di nuovi strumenti, di nuove competenze soprattutto per resistere a una situazione veramente complessa. Noi come associazione di categoria stiamo come confartigianato, stiamo evidenziando come bisogna spostare la tassazione, un anno bianco sulla tassazione, spostare il tema relativo ai pagamenti dei mutui. Doviamo ricreare quelle condizioni per un fare impresa in Italia, quindi questo è indispensabile oggi. È del tutto evidente che però servono competenze nuove. Quindi parliamo di un'esperienza con docenti provenienti da tutta Italia di grandissimo livello che daranno quelle competenze e quegli strumenti per cui bisogna prepararsi. E questo è fondamentale oggi in questa situazione dove veramente fare imprese è molto complesso e quindi il confartigianato da questo punto di vista mette gratuitamente a disposizione dei nostri imprenditori in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, tutti quegli strumenti e quelle competenze per provare a resistere. Perfetto, grazie segretario e credo che con la sua passione i risultati si raggiungeranno. Ce la stanno mettendo i nostri imprenditori, noi siamo qui perché dobbiamo rappresentare una categoria che si è comportata veramente bene in questo momento e è stata pochissimo sostenuta. Il focus appunto dopo 16 anni continua ad essere sul tema delle micro e piccole imprese. Questo perché questa tipologia di organizzazioni rappresenta l'ossatura del sistema economico e sociale regionale. In questa prospettiva queste imprese hanno necessità di dotarsi di strumenti che siano in linea con l'evoluzione tecnologica e con quello che il mercato richiede. Il contesto non è facile, i dati che abbiamo consentono di evidenziare dal 2008 al 2020 una perdita del PIL direi di tutta l'Italia centrale. Si pone una problematica che non è più solo del mezzogiorno ma anche una frattura Italia centrale. Teniamo conto che per le marche il PIL è diminuito in questo periodo del 18% circa, ma anche in Umbria siamo intorno al 25%, un po' meno in Abruzzo, ma se ci pensiamo bene si è partiti dalla crisi del 2008, poi c'è stato il tema del terremoto e poi la pandemia. Quindi abbiamo avuto davvero una serie di situazioni particolarmente difficili da affrontare. Quindi che cosa dobbiamo fare con le imprese? Riuscire a dare strumenti per ripartire. Il tema programmazione diventa fondamentale e da questo punto di vista anche infondere ottimismo, perché dobbiamo pensare che l'economia ripartirà e quindi le nostre imprese devono essere pronte in questo momento di crescita che deve necessariamente esserci. È un momento difficile anche per l'università. Sappiamo che comunque l'attività didattica è anche lei soggetta purtroppo a tante restrizioni e tante problematiche, però mi sembra che si comincia a vedere la luce, si comincia a parlare anche in tema di università, di lezioni in presenza, quindi di una ripartenza anche importantissima a livello accademico, perché se è vero che sono i giovanissimi magari a soffrire più delle carenze scolastiche di questo periodo, anche a livello universitario per esperienza proprio personale ci rendiamo conto quanto sia difficile riuscire a proseguire un'attività così importante senza il contatto vivo con gli studenti. Il contatto diretto è fondamentale, nel senso che il digitale è utile, c'è stata una forte accelerazione nel digitale anche da parte del sistema universitario e sicuramente rimarrà in futuro, ma la lezione diretta, il contatto diretto con gli studenti e con le studentesse è determinante. In questa prospettiva direi che l'università non si è mai fermata, non è stata mai chiusa perché le attività di ricerca sono sempre continuate, proprio l'altro giorno abbiamo definito con gli altri lettori dell'Università Marchigiani di ripartire, nel nostro caso l'Università Politecchia delle Marche lunedì riprenderà le lezioni sia in presenza garantendo comunque l'attività online. Questo perché magari non tutti gli studenti possano spostarsi o riuscire a frequentare. Credo che sia fondamentale questo. Ovviamente con tutta l'attenzione noi abbiamo un'app che permette di prenotarsi, di verificare quindi l'utilizzo delle strutture, delle aule. Prima ancora è stato fatto tutto quello che doveva per verificare quanto può essere dell'utilizzo in termini dimensionali delle aule, dal 30 al 50% del numero dei posti in base anche alla reazione. Insomma tutto quello che bisogna fare dal punto di vista della salute va fatto perché la salute va rispettata e è la prima cosa. Al tempo stesso se ci sono le condizioni come in questo momento, sembra ci siano, ecco ripartire. Le Marche hanno in realtà quattro Atenei quindi sono proprio una regione molto presente dal punto di vista accademico universitario e contemporaneamente una miriade di piccole imprese che poi portano avanti l'economia del territorio. È veramente un binobbio che possiamo definire da marchigiani oltretutto che è stato sempre vincente e che siamo sicuri che nell'immediato futuro riporterà davvero la rinascita della regione. Ma qui si innesca un'altra problematica di cui non si parla sempre che è quella demografica. e cioè abbiamo avuto una forte diminuzione di residenti giovani che sono andati via anche a studiare e un invecchiamento della popolazione e una capacità non sempre forte di riuscire ad attrarre che è l'altro punto. Ecco qui dobbiamo davvero impegnarci tutti per bloccare questo flusso in uscita e per incrementare flussi in entrata. Credo che questo sia davvero un altro tema fondamentale. Siamo con Graziano Sabatini, il presidente di Confartigianato Ancona a Pesaro Urbino. Un'iniziativa fondamentale legata alla formazione, legata proprio agli strumenti nuovi per le imprese marchigiane per poter ripartire quando il futuro ce lo permetterà. Sì, è un'iniziativa che noi poi portiamo avanti questa sedicesima edizione appunto della Scuola per Impreenditori. Quest'anno abbiamo tra l'altro implementato il percorso perché abbiamo una parte destinata appunto alla formazione degli imprenditori, di chi ha già un'impresa, di chi già sta operando sul mercato perché riteniamo fondamentale avere tutte le informazioni possibili per poter affrontare quelli che saranno i problemi di oggi ma anche i problemi di domani perché comunque dei cambiamenti sappiamo che ci saranno ma dobbiamo essere pronti semplicemente ad accettarli, dobbiamo essere pronti ad affrontarli. E poi quest'anno stiamo inaugurando anche una nuova scuola per imprenditori, la scuola appunto del percorso Young destinato a chi deve fare il passaggio generazionale per impresa che già potrebbe essere presente in famiglia oppure chi si vuole avvicinare al mondo dell'imprenditoria, chi vuole appunto iniziare un'attività deve avere le conoscenze e le competenze adeguate perché pensiamo che senza acquisire quelle che sono le criticità della situazione che si va ad affrontare non si può riuscire oggi di mettere in piedi un'azienda e un'attività che possa avere un futuro. Quindi è importante anche per i giovani formarsi e conoscere quelle che sono appunto le problematiche dell'attività che vogliono intraprendere e questo è il nostro compito. Come in un perfetto principio di vasi comunicanti poi qui siamo in un rapporto proprio bidirezionale perché sicuramente le imprese avranno tanto da imparare dalla formazione ma la stessa formazione ha tanto da imparare dalle imprese per adeguarsi e fornire gli strumenti opportuni. Certamente il lavoro che noi facciamo sul territorio penso che sia veramente un segnale importantissimo di quelle appunto che sono le esigenze del territorio e questo è quello che noi poi cerchiamo grazie alla collaborazione che abbiamo appunto da 16 anni con questo, con l'università, di portarlo anche a chi poi crea appunto la formazione in maniera veramente di alto livello sul nostro territorio. Quindi questo appunto è un interscambio di conoscenze, di competenze che secondo noi sarà indispensabile come lo è stato negli ultimi anni ma lo sarà sicuramente nel futuro per poter preparare quelle che sono le figure professionali che veramente poi possono trovare occupazione ma non solo nel nostro territorio ma sicuramente nel nostro paese. Dopo tanti mesi difficili siamo proprio alla vigilia di una speriamo stagione che possa coincidere con una rinascita vera della nostra regione. Speriamo che durante l'estate come è successo per l'anno scorso che c'è stato diciamo una grandissimi segnali di vitalità subito dopo l'estate durante tutto il periodo estivo quest'anno naturalmente supportato da quello che è la campagna vaccinale che noi stiamo incentivando in ogni modo perché deve essere accelerata. Crediamo tantissimo che questa sia veramente la chiave di svolta di questa pandemia. Noi pensiamo, abbiamo tutti i dati che ce lo confermano, che ci sarà un grande rimbalzo dell'economia. Le imprese diciamo devono essere pronte per poter approfittare, se voglio usare questo brutto termine, di questo rimbalzo dell'economia perché comunque come è successo l'anno scorso noi tra l'altro abbiamo visto anche la grande potenzialità della piccola impresa italiana. Il terzo trimestre del 2020 l'Italia ha segnato a livello di aumento del PIL un 15,9% contro un 12,5% della media europea. Significa che la piccola impresa ha veramente dei punti di forza soprattutto dati dal fatto di potersi adattare velocemente a quelle che sono le esigenze, le richieste del mercato e quindi proprio grazie alla piccola dimensione è molto più duttile dal punto di vista della risposta del mercato e quindi diciamo ha motivi di competizione che sicuramente possono essere ancora un'arma vincente come si potrà ripartire a lavorare in maniera normale e un pochino più serena per tutti. Grazie Presidente, complimenti ancora per il supporto che date a tutti. Grazie, grazie a tutti voi. Maria Serena Chiucchi, direttore del Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche. Entriamo un pochino nel merito di quello di cui stiamo parlando oggi, quindi di questo corso di Management. Come si svolgerà esattamente? Allora, per quanto riguarda questo corso, le tematiche sono delle tematiche che riusciranno a dotare i giovani imprenditori proprio di quegli strumenti che permetteranno di scaricare a terra quello che è il loro intuito imprenditoriale e quindi quella che è la loro creatività. Questo perché? Perché attualmente non basta solamente l'intuito, bisogna invece dotarsi di strumenti che permettano non solo di creare delle imprese ma di renderle proprio sostenibili sostenibili nel tempo. Sostenibili nel tempo vuol dire capaci di creare ricchezza attuale e nel futuro ma anche di creare benessere per i dipendenti e per il territorio circostante rispettando ovviamente l'ambiente. Quindi tutte queste sfaccettature che abbiamo appena adesso verranno poi toccate all'interno del corso e quindi la capacità proprio di dotarsi di strumenti per razionalizzare quella che è un piano proprio di marketing per esempio e quindi per proiettare consapevolmente la propria impresa verso il futuro ma anche allo stesso tempo per esempio un budget quindi un piano finanziario per esempio fino a toccare come dicevo anche aspetti che riguardano proprio l'economia circolare. Quindi proprio delle imprese che siano capaci non solamente di nascere ma veramente di prosperare. È un corso che ha delle grandissime potenzialità anche soprattutto per i giovani perché qui si parla veramente tanto di giovani, si parla di ricambi generazionali, poi dopo molto spesso è tutta teoria mentre qui invece mi pare che si faccia anche molta pratica. Si fa assolutamente molta pratica ma soprattutto anche con delle metodologie didattiche che permettono e che permettano di mettersi in gioco perché questo è molto importante cioè non ci sono solamente lezioni frontali e quindi un trasferimento di conoscenze quello è certamente importante però anche studio di casi aziendali, anche quindi sperimentazioni didattiche in laboratorio, sperimentazioni nel senso proprio di attività d'impresa, di quello che dicevo precedentemente quindi aspetti relativi alla digitalizzazione piuttosto che appunto ai diversi piani che possono essere posti in essere e quindi è una didattica che consente di apprendere però allo stesso tempo di mettere in pratica e quindi di sviluppare poi il senso critico su questi strumenti che diventa importante anche perché tutto è veloce tutto in cambiamento e quindi anche gli strumenti bisogna essere poi capaci di evolverli nel tempo. Abbiamo parlato col presidente di una bidirezionalità fra impresa e formazione, in questo caso università crediamo che anche l'università abbia proprio molto da imparare da questa attività perché deve ovviamente capire la realtà, il contesto, il contesto nuovo nel quale muoversi e quindi veramente un processo virtuoso che agisce a 360 gradi. Sì, guardi, noi del Dipartimento di Management abbiamo come mission proprio quella di creare conoscenza utile e quindi conoscenza che possa essere data, trasferita nel territorio ma il trasferimento come diceva lei non è semplicemente unidirezionale ma è bidirezionale, ci deve essere un osmosi. Guardi, tantissimo in Accademia per esempio si parla del gap tra teoria e prassi e quindi noi invece puntiamo molto a che tutto quello che studiamo, noi siamo un Dipartimento di Eccellenza proprio per un progetto sugli Intangibles che ci vede proprio in prima linea anche nel territorio perché come diceva lei giustamente le conoscenze poi si incrementano nel momento in cui vengono applicate, vengono nuove idee e queste vengono ulteriormente sperimentate, arricchite e quindi ci crediamo fortemente ma questo è nella missione del nostro Ateneo perché noi abbiamo tre missioni didattica, ricerca e terza missione che è trasferimento delle conoscenze nel territorio e queste tre missioni sono di tutti i dipartimenti del nostro Ateneo. Ci crediamo fortemente, lo stiamo noi come Dipartimento ma anche gli altri lo stiamo proprio veramente applicando, questa è una di quelle iniziative che lo rendono palpabile, ce ne sono anche tante altre perché è un continuo dare e ricevere. Giustissimo, non ci resta che dire, dottoressa, buona formazione. Grazie, grazie, poi lo estendiamo anche a tutti coloro che parteciperanno. Emanuele Martelli, responsabile dell'innovazione e della formazione di Arcos, un percorso formativo davvero stimolante, interessante, ne ha definito prima in conferenza stampa tre aree proprio di macro intervento, se così possiamo dire. Sì, assolutamente. La scuola imprenditori ha come obiettivo quello di aiutare le imprese esistenti perché ci rendiamo conto dell'importanza delle piccole e micro imprese in questo momento dove quella che chiamavamo grande impresa e media impresa in questo momento sembra essere latitante o comunque in forte difficoltà. Quindi per aiutare le nostre imprese esistenti, perché prima di pensare a quelle che apriranno dobbiamo pensare a tenerci ben strette, quelle che per molti anni hanno portato avanti il tessuto economico e quindi il benessere sociale qui nel territorio. Per cui per queste imprese noi abbiamo creato insieme all'Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Management, tre macro moduli in cui abbiamo messo gli interessi per fornire le competenze che servono in questo momento, ossia la crisi del settore finanziario, quindi come gestire la problematica del credito, del bisogno della liquidità, ma soprattutto come gestire il rapporto con le banche alla luce delle nuove normative che sono entrate in vigore dal primo gennaio e magari parlare, dialogare, fare intervenire le banche stesse o i sistemi di confidi regionali, proprio per capire loro cosa si aspettano dalle imprese e quindi come pretendano che uno presenti determinati documenti, asset, per poter accedere al credito e avere quella liquidità necessaria per comprare prodotti, materie prime, eccetera. E in un momento come questo, dove tutte le materie prime sappiamo che sono arrivate ad aumenti fino al 40-50%, è fondamentale, perché nessuno dà più niente gratis e quindi bisogna comunque accedere al credito per poter fare imprese e andare avanti. L'altro macro modulo della scuola imprenditori è quello legato alle difficoltà del momento. Molti imprenditori che per tanti anni sono andati bene, dal 2020 si sono trovati per la prima volta, magari nella loro storia, in difficoltà. E questo ha creato un momento di ansia e anche difficoltà nel prendere decisioni. Quindi la cosa importante è insegnare loro come analizzare i dati che hanno e prendere decisioni basate su quei dati che parlano chiare, nel loro contesto specifico. Quindi è inutile che io cerco di capire come funzionano i dati di un'altra azienda. Io devo analizzare i miei e sulla base dei miei dati prendere decisioni per la mia impresa. E tutto questo contesto quindi si va dai piccoli dati ai big data. E quindi parliamo di business intelligence e dei sistemi per poter prendere queste decisioni sull'analisi di dati. Il terzo macro modulo è quello che in questo momento permette di innovare. Sappiamo che le imprese più resilienti sono quelle che sono andate sulla digitalizzazione l'anno scorso anno, ma soprattutto le imprese che hanno meno risentito dalla crisi sono quelle che ogni anno hanno investito in ricerca e sviluppo, ma anche inteso semplicemente in provare a offrire nuovi servizi o nuovi prodotti. E quindi in questo caso loro hanno bisogno di innovare. Ma cosa significa innovare? Magari digitalizzando o magari andando verso percorsi di green economy, economia circolare o sostenibilità. Ecco, anche in questo caso daremo loro con la presenza di che istori di imprese e con la presenza magari di responsabili, come il nostro responsabile nazionale che si interfaccia col Ministero della Transizione Ecologica, dare risposte di quello che bolle in pentola sul mercato o dove potrebbero andare i nostri imprenditori a seconda del settore d'attività che appunto stanno portando avanti. E quindi dare delle possibili, diciamo, vie d'uscita. Abbiamo colto un aspetto importante legato alla formazione dedicata ai giovani perché questo corso si pone l'obiettivo non solo di dare gli strumenti per imparare e iniziare una nuova attività imprenditoriale, ma anche per capire se si è, per certi versi, adatti a farlo. Assolutamente. L'altro percorso formativo, quindi la seconda scuola, perché quest'anno in un momento di crisi in cui tutti tirano il remi in barca, noi quest'anno addirittura abbiamo aumentato l'offerta formativa gratuita come risposta per le imprese. Quindi noi non facciamo, diciamo, rumore in piazza e non aumentiamo il contagio in questa modalità, ma cerchiamo di dare risposte concrete. Quindi oltre ad aiutare le nostre imprese esistenti, che in tutti questi anni hanno aiutato quindi il territorio, e quindi per loro abbiamo creato la scuola imprenditori sedicesima edizione, quindi non è una cosa che nasce da ieri, ma per i potenziali neoimprenditori, per chi è aperto da poco o per chi sta pensando di aprire, abbiamo creato un percorso specifico, una nuova scuola, la scuola cosiddetta imprenditori young, che non significa che è aperta solo ai giovani, per loro sono i benvenuti, però è aperta anche a chi vuole aprire un'attività, anche se l'età è un po' più avanzata, per dare loro quelle competenze minime, per spiegare e renderli consapevoli, fare l'imprenditore significa questo, io ti do queste competenze, ora decidi tu se fa per te oppure non fa per te. In questo modo sia quelli che hanno appena aperto e già si trovano in grossa difficoltà, perché magari quelle competenze non le avevano, magari erano bravi a fare una determinata attività, ma non erano bravi sul marketing, sulla comunicazione, sulla programmazione, sulla gestione del personale, e quindi gli mancano queste competenze. Abbiamo avuto addirittura già contatti d'aziende esistenti da più anni che ci hanno chiesto ma io potrei iscrivermi pure alla scuola young perché mi rendo conto che quelle competenze mancano anche a me. Quindi per farvi capire quanto è importante per fare imprenditore avere a 360 gradi tutte le competenze e non essere bravissimo solo nel proprio settore d'attività, nel proprio segmento, perché poi uno è bravissimo ad aggiustare l'auto, però non è bravissimo magari col marketing o nell'accogliere i clienti in modo corretto dal punto di vista della customer satisfaction, dell'accoglienza dei clienti. Quindi dobbiamo dare tutte queste competenze alle nostre imprese, sia quelle che stanno pensando di aprire, sia quelle che hanno aperto da poco. Poi questi neoimprenditori appunto se vorranno potranno grazie a queste competenze essere più competitivi nel proprio settore. E a quelli che non erano decisi di aprire o no magari decideranno di farlo ma in modo consapevole perché ora queste competenze le hanno. Un'ultima domanda dottor Martelli, allora come ci si scrive a questo corso? Diamo proprio anche le indicazioni per chi volesse frequentarlo. Allora sempre nell'ottica che in questo momento noi non dobbiamo creare burocrazia come si sta facendo per fare una domanda di rimborso e ristoro. Noi vogliamo dire, ti diamo tutte le modalità dalle più innovative alle più tradizionali. Quindi se uno ha tempo basta andare sul nostro sito www.confartigianatoimprese.net sull'home page, clicca su scuola imprenditori e si aprono le due scuole. Quindi clicca a sinistra, si può scrivere a scuola imprenditori, a destra la scuola imprenditore Young. Compila poche informazioni e il gioco è fatto. Chi è più innovativo addirittura può andare anche sulle varie brochure, sia quelle in formato digitale che quelle in formato cartaceo. C'è un QR code, quindi può scansionarle e va direttamente all'iscrizione. Chi vuole può mandarci un email a formazione, chiocciola.confartigianatoimprese.net oppure se uno dice che non ho tempo, sto qui col cellulare mentre lavoro, ci chiama al numero verde che è 822 9310 e una persona proposta lo farà all'iscrizione per conto dell'impresa o insieme all'impresa o alla potenziale neu'impresa. Perfetto, in pratica non ci sono scuse per non partecipare. Assolutamente no, quindi siete tutti i benvenuti e noi vogliamo dare questo tipo di risposta proprio per le imprese, sia quelle aperte che dobbiamo assolutamente tutelare ed aiutare, sia per quelle che stanno per aprire, per dire siete sicuri che volete aprire? Ecco cosa significa aprire un'impresa. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. La formazione come elemento strategico per il futuro. Era questo il focus della conferenza stampa organizzata da Confartigianato Ancona a Pesaro Urbino presso la sua sede di Ancona proprio per farci vedere, fare vedere a tutti gli operatori che sono intervenuti qual è il grande obiettivo di questo percorso che intende rimettere le imprese marchigiane al centro dell'attenzione. La grande crisi della pandemia ha steso l'economia marchigiana così come tutta quella della nostra nazione, ma non solo, siamo a livello mondiale. La formazione è un elemento strategico per poter avere gli strumenti per ripartire. L'Università Politecnica delle Marche, grande partner dell'iniziativa insieme a Confartigianato e anche Camera di Commercio, si pone proprio questo obiettivo. Il magnifico rettore dell'Università che era qui presente ha incarnato con la sua parola e con il suo entusiasmo questa volontà. Rossini TV era presente per voi con Antonio Astuti e il supporto tecnico di Alessio Nuccio.